formare i cittadini sulle risposte. Grazie all'architetto Stefano Zanud, vice direttore del comando vigile del fuoco di Pordenone. 81 morti, a tanto ammontano i morti in quella tragica vicenda di un DC9 dell'Italia, precipitato vicino a Ustica, era il 27 giugno del 1980. Già nel 2006-2007-2008 Francesco Cossiga, già Ministro degli Interni, già Presidente della Repubblica, affermava che era stato un missile francese a colpire l'aereo, l'Italia, perché era in atto un tentativo di uccidere Gheddafi e di colpire l'aereo di Gheddafi. Sui cieli erano diversi gli aerei. Oggi Amato, già Presidente del Consiglio, dice che erano tutti d'accordo, americani e che i francesi lanciarono il missile. Tra l'altro proprio un aereo americano atterrò alla base americana di Aviano invece di atterrare, mi pare, in Inghilterra, perché ho seguito quella vicenda. Ne parliamo perché? Perché oggi è scoppiato questo, diciamo, boom, ma erano cose che si sapeva. Mi chiedo, ma quando era Presidente il buon Amato, che non è stato l'ultimo amministratore di questa terra, è stato il numero due di Craxi al governo quando c'è la Craxi, è stato Presidente del Consiglio. Perché non ha mai detto chiaramente quello che ha detto oggi in un'intervista normalissima a Repubblica come bersi un bicchier di vino a mezzogiorno? Sono le cose tutte tagliote queste, tutti che cadono dal pero. Cossiga, se vogliamo dirlo, lo aveva detto per primo. Perché ne parliamo? Perché anche noi abbiamo avuto i nostri concittadini morire sul 19 dell'Italia. Luigi Andres, 33 anni, la moglie Cinzia Andres di 25 anni e Pier Antonio Torres, 33 anni. Erano saliti sul 19 dell'Italia per raggiungere la Sicilia e quindi invitati ad un matrimonio. E allora interviene su questa vicenda il nostro esperto geopolitico e quant'altro, Guglielmo Cevolin. Commentiamo lo scoop di Repubblica di sabato 2 settembre 2023 con l'intervista di Giuliano Amato. Giuliano Amato è un'importante autorità istituzionale del nostro paese, è stato Presidente della Corte Costituzionale, è stato due volte Presidente del Consiglio e nell'intervista riferisce aspetti che avrebbe approfondito molti anni fa come sottosegretario al Consiglio dei ministri del governo Craxi. Quindi un po' di anni dopo, qualche anno dopo, i fatti di Ustica che sono accaduti durante il governo Cossiga. Ma nella intervista Amato dice che è stato proprio Cossiga a chiedere a Craxi di approfondire il tema di Ustica in quel periodo, cioè nell'agosto 1986, quindi un po' di anni dopo Ustica che è nel 1980, ed ecco che Amato rivela le sue opinioni come ex sottosegretario del Consiglio dei ministri sulla base di una piccola indagine che ha fatto in quel periodo. Quindi in quel periodo soprattutto Amato riferisce di essere colpito da una sfilata di generali che cercava di convincerlo della tesi della bomba, quando lui invece riteneva, come Andrea Purgatori, che invece ci fosse stata una battaglia aerea. Come altro elemento che Giuliano Amato aggiunge è che sarebbe stato Craxi ad avvisare Gheddafi per evitargli la morte in questa esercitazione che era stata concordata tra i francesi e gli americani come esercitazione per cercare di coprire l'abbattimento di un aereo libico che sarebbe dovuto passare per Ustica e che avrebbe contenuto Gheddafi. Ecco in realtà le inchieste giudiziarie hanno stabilito che molto probabilmente la verità è quella della bomba interna e come tante altre bombe interna all'aereo e come altre bombe pensiamo a quella della strage di Bologna per esempio in quegli anni, proprio 1980, ecco in realtà quegli anni vanno ricordati come gli anni della debacle dei nostri servizi segreti con anche un possibile coinvolgimento, deviazioni da parte dei servizi segreti, delle indagini e quindi ecco che lo scoop tra virgolette di Repubblica va un po' ridimensionato. Certo la personalità che fa le dichiarazioni Amato è una personalità molto rilevante per il nostro Paese ma non pare aggiungere molte cose rispetto a quello che è emerso dalla verità tra virgolette giudiziaria con le perizie. Tra l'altro la Francia è intervenuta, ha detto abbiamo già fornito ogni elemento in nostro possesso all'autorità giudiziaria italiana così dai tempi che furono e comunque siamo qui per dare ulteriori informazioni qualora ce ne fosse bisogno. Mi chiedo sempre e lo ripeto perché ora...